La maggioranza si sta comportando in un modo assolutamente prevaricatore, cioè prevarica quello che è il ruolo del Senato, sostanzialmente stanno imponendo qualcosa, ma non è la maggioranza che sta imponendo qualcosa, è qualcuno che è esterno alla maggioranza, cioè probabilmente sia il Presidente del Consiglio che il Presidente della Repubblica, non sono più arberi, stanno giocando, un arbitro non può giocare. Lei nega che il Presidente Grasso sia arrivato addirittura a minacciare l'intervento delle forze dell'ordine per sedare le proteste? Non possono entrare le forze dell'ordine in Senato, questo è noto, non so precisamente cosa abbia detto il Presidente Grasso, ma sicuramente le forze dell'ordine non possono entrare, sarebbe fuori da ogni regola.